La regione avesse che i cittadini del Lazio voteranno sia per le politiche che per le regionali. Iniziative, candidature nel servizio di Antonella Armentano. Lotta alla corruzione, agli sprechi, ai benefit e all'indebito utilizzo dei soldi pubblici. Questi i punti cardini del programma di rivoluzione civile che candida la carica di presidente della regione Sandro Vuotolo. Ruolo chiave per la formazione che fa capa in groia, la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini. Ripristinare legalità e trasparenza, quindi basta con i vitalizi, basta con i benefit a favore dei consiglieri regionali. Sono delle situazioni che non possono essere più tollerate in questo momento di crisi dai cittadini che chiedono un impegno soprattutto alla classe politica.